le cose che mi hanno colpito di più e l'emozione che ho provato sono stati più o meno queste tra le una miriade di emozioni che il giorno prima il 14 pomeriggio con il mio collega verso le quattro e mezza 5 ci siamo recati in località somo dove come forestale andiamo sempre contro l'andamento dei torrenti una cosa che facciamo sempre prima che poi si verificano fase emergenziale per le quali poi intervengono i comuni con loro operatori a protezione civile durante questo controllo avevo già visto che nella zona del torrente bt e nella zona del poligono di tiro era già fuoriuscito comprendo completamente la zona e minacciava sia il poligono di tiro che abbiamo su e oltretutto c'è un altro torrente che stava interessando la zona della polveriera il torrente che scende da san cristofe allora abbiamo pensato già subito di dare un avviso a queste persone che le situazioni stava stava diventando molto pericolosa e gli abbiamo detto di andare via se era possibile queste persone sono andate via quelle del poligono era venuto poi sul giovane che aveva supportato il geologo il dottor pascolotto massimo che si è andati su a vedere la situazione che lui ha dichiarato molto molto pericolosa e come se il torrente era grosso era molto sporco che tenuta la presenza di frane nelle parti alte e vedete a queste persone di di andare via se era possibile con un po di perplessità allora ancora prima dello sgombero con ordinanza di tutta la zona di suo mondo del comune loro sono andati via giorno dopo la polveriera non esisteva assolutamente più e metà della casa di questi signori era sparita e questo è il giorno prima dopodiché le nostre pattuglie hanno continuato ad andare avanti h24 quindi noi rientravamo fuori si con altre pattuglie e il giorno dopo alle sei e mezza siamo usciti noi di nuovo sempre con il mio collega abbiamo fatto un giro che ho detto andiamo a vedere la situazione del torrente con voi come si comporta e siamo passate della giornata l'entrata parte di polen dal comune e non siamo potuti passare perché c'è già un altro torrente che era fuoriuscito e stava inondando la strada c'era già gli operatori del comune il sindaco che stavano già operando e tutto sommato ci è andata bene perché abbiamo dovuto passare a lungo d'ora mentre solitamente noi per controllare con voi andiamo giù sopra dove c'è la chiesetta appena nel punto dove è uscito poi il combo e nella parte di polen è uscito proprio quel momento che noi abbiamo fatto il giro se fossimo andati direttamente su in quel posto non ero quasi probabilità raccontare queste cose ecco un altro episodio che posso ricordare che non è interessato a noi direttamente ma è interessato un'altra stazione forestale vicina la stazione forestale di un iso è stato quello di un operatore visto che erano saltati tutti gli apparati telefonici non si poteva più parlare allora i nostri apparati radio sono diventati importantissimi per le comunicazioni e a nirsi come si sa è praticamente il paese è rimasto isolato completamente allora l'unico sistema per operare era il sindaco anche altre forze dell'ordine si rifacevano sulla stazione forestale di nirsi dovevamo un operatore soltanto che era ancora in grado di operare che dopo 36 ore di continuo di operatività è venuto proprio sulla sull'apparato radio quindi questo è uno dei dei tanti bisogni che si possono raccontare una miriade tutte persone molte persone che poi non sono state ricordate sicuramente perché anche di di atti di coraggio ce ne sono stati veramente tantissimi ecco la cosa che posso far rilevare è che quando abbiamo fatto gli interventi del 2000 non c'era la situazione chiara sugli interventi dei vari enti dei volontari sono trovato in certi momenti a fare un intervento dove siamo arrivati noi il vigile del fuoco e gli alpini tutti nello stesso momento quindi c'era veramente un po di una grande confusione e da allora adesso io sono un disaster management grazie anche a questo perché poi ci sono stati anche corsi di preparazione fatta persone che volevano fare che si occupano di questa attività da allora adesso si vede nettamente un miglioramento di tutta la protezione civile non solo a livello regionale ma anche a livello comunale prima a livello comunale i sindaci erano un po sapevano esattamente cosa devono fare cioè prendevano e facevano perché noi valdostane siamo abituati a prendere e fare solitamente invece adesso sono coordinati hanno volontari hanno sistemi di controllo anche loro territoriale oltre quelli della regione che abbiamo noi come forestale sui presidi territoriali e regionali